Teseo Tesei di Marina di Campo, il comunale che a ottobre vedrà la partenza dei lavori con la società campese del Comune di Campo che hanno vinto un bando in federazione, verrà fatto il terreno nuovo. Allora Marco Petrocchi, presidente del Sodalizio Campese, si riparte da dove avevamo provato a ripartire l'anno scorso, dove fumo ghiacciati immediatamente. La squadra è pronta per partire al campionato di terza, dove avrete le vostre competitori urbane, Rio Marina e Porta Azzurro. Puntate minimamente a qualcosa? Si vuol sperare di far partire un ciclo? L'entusiasmo c'è, quindi vediamo se sono rose e fioriranno, come si dice come battuta. Sì, i ragazzi sono motivati perché dopo un anno e mezzo di stop completo hanno talmente voglia di giocare al pallone che si vede anche dalle presenze che stanno facendo gli allenamenti e siamo contenti. Avremo qualche problema di logistica quest'anno, però abbiamo già risolto con le varie altre società urbane e quindi siamo più che contenti di ripartire e dimostrare quello che abbiamo fatto in questi due o tre anni posizionandoci nei piani alti della classifica. Campionato che si snota tra Suvereto, che è la squadra più a sud, Livorno, le Livornesi, al nord. Dove può arrivare questa campionata? Ho visto molti nuovi nuovi, ora aspetto che tu mi mandi la lista, la rosa completa per conoscerli meglio. San Piero continua a non giocare, sono rimasti solo i fratelli Bacigalupi e poco altro. In seconda il Marciano e in primo l'Audace, per quanto riguarda seconda e prima è già cominciata la stagione della Coppa Toscana, purtroppo due sconfitte. Voi quando iniziate? Ancora la federazione non ci ha comunicato niente, però diciamo che metà ottobre dovrebbe uscire il calendario per le partite di Coppa e poi a susseguirci il campionato a fine ottobre. Senti, allora purtroppo c'è stato quest'anno di sosta, non siete riusciti a fare i lavori del campo. A ottobre arriva il manto nuovo, in che tempi tecnici avete stimato il posizionamento del terreno nuovo? Questi sono tempi tecnici che il comune ci dovrà dire. Comunque si spera per la stagione prossima di ripartire a settembre con l'impianto ristrutturato degno della Campesi. Per cui mi dici se ho capito bene che giocherete un campionato intero, tra virgolette, sempre in viaggio, tra i campi neutri? Qui no ancora. No, qui no. Vediamo, se i lavori slittano un pochettino potremmo iniziare con la prima partita qui. Poi chiaramente saremmo costretti ad andare a San Piero o con le nostre società erbane a Marcella Marina. Questi sono i due campi destinati per andare a giocare. Senti, chiudo, non ti disturbo oltre perché ti vuoi gustare l'allenamento dei ragazzi. Ti avevo chiesto notizia, microfoni spenti, è finito il progetto Giovani? Un bel progetto che è andato avanti per tanti anni. Adesso ovviamente i ragazzi sono cresciuti, è passato di bienio, tutti transitati all'audace. Sì, come è logica che era, le squadre di una certa annata le possono fare solo l'audace, dove ha i numeri, quindi era logico che veniva destinato tutti i giocatori in quelle categorie più grandi. Però è stata un'esperienza buona che ha formato molto i ragazzi e siamo contenti. Bene, ok, sono bei ricordi anche per me che facevo l'autista qualche anno fa qui con voi. Chiedo, Daniele? No, lo lascio. È andato, no, volevamo... Vieni, vieni, Daniele! Vai, 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 vai. Allora, noi la volevamo chiamare in correo anche...